Ehi la! Ciao amico lettore e benvenuto sul canale dell'ora del libro! Io sono Anita Book e da 7 anni e mezzo circa mi occupo di letteratura e narrativa, in particolar modo per i ragazzi ma anche per i più grandi, insomma leggere a mica un'età. Perciò se ti senti naufragare in questa realtà grigia e ostile e non sai da che parte andare, fermati qui! Troverai un sacco di suggerimenti di lettura, contenuti speciali, video recensioni, video interviste, concorsi, video tag e molto altro ancora, perché ricorda che mondo sarebbe senza libri! Ti aspetto! Ciao!